Ortiche fritte. Queste non ti pungono? Buonissima. Quando però ancora pungono munitevi di guanti e ora siete pronti a raccogliere tutte le foglie che volete. Poi arrivati a casa potete fare la pastella che le rivestirà. Farina bianca, due cucchiai di farina di riso o amido di mais e acqua fredda fino ad ottenere questa consistenza. Poi tuffate le foglie nella pastella e successivamente nell'olio bollente. Dopo pochi secondi saranno pronte, scolatele e salatele. Ottime così, ma se le abbini ad esempio ad una crema di ricotta di bufala al pepe e qualche pinolo tostato sopra un po' macinato, c'è l'aperitivo della vita.